Eccoci tornati, eccoci tornati. Allora, siamo arrivati, Francesco, al blocco dedicato allo spettacolo, perché abbiamo nostro ospite, un viso già molto conosciuto, Francesco. Allora, adesso lo presenta Francesco, io però appena l'ho visto ho detto, l'ho etichettato, non so se è felice di questo o no, perché lui è bravissimo, fa tanti spettacoli anche a teatro e tra poco ne parleremo. Chi abbiamo in studio? Allora, diamo un grande benvenuto negli studi pomeriggio con noi ad Alessio Chiodini. Ciao Alessio, grazie di essere con noi e di aver accettato l'invito. Grazie a voi per l'invito, mi fa molto piacere naturalmente. Come stai? Bene, bene, un po' stanchino perché sto proprio sotto spettacolo, quindi vengo proprio dalla sala prove, sono giorni un po' frenetici. Raccontaci un po' i giorni, hai proprio le sensazioni di questi momenti. Sono diciamo i giorni dove si lavora di più perché poi si va a provare tutto lo spettacolo per intero, si passa dal particolare al generale, quindi insomma andiamo di filato come diciamo noi, quindi proviamo uno spettacolo per intero almeno un paio di volte al giorno finché poi non si arriva la messa in scena. Poi arriva un momento in cui c'è proprio la necessità del pubblico, no? Perché ti dà quel surplus, quella cosa in più per la performance. Quindi poi anche la curiosità di vedere se il lavoro che stai facendo piace, si arriva, come reagisce il pubblico. E' un po' la magia del teatro questa. Perché diciamo ai nostri telespettatori che possiamo trovare Alessio Chiodini insieme ad Alessandra Cosimato, Marco Fiorini e Vittoria Rossi con la regia di Alessandro Sena dal 24 al 29 gennaio 2023 al teatro Cometa Off con l'amico ritrovato. E tra poco vedi, eccola qua subito, la copertina. Allora, è uno spettacolo importante, nel senso io appena ti ho visto ti ho etichettato come quello che era fidanzato con la figlia di De Siga in un cinepanettone della fine della prima decada del 2011. 2011 infatti, no? Sì, e poi è stato secondo me l'ultimo vero cinepanettone. Lui era l'avvocato Govelli. L'avvocato Govelli ha chiuso un po' un cerchio perché siamo tornati a Cortina dove tutto un po' era nato ed è stato forse l'ultimo vero perché poi dopo si sono susseguiti dei film, di commedie che però avevano poco a che fare con la tradizione del cinepanettone, del successo che ha avuto questa lunga saga, come diremmo oggi, di commedie che raccontavano l'Italia, raccontavano l'italiano medio attraverso i vizi, le mode, le virtù. E quindi era tutto molto bello. E quindi quello è un cine... eri giovanissimo, mi hai raccontato avevi 22 anni. Sì, avevo 22 anni, ero proprio agli inizi di questo mio percorso d'attore, avevo già fatto delle cose in televisione ma quello è stato il mio esordio diciamo sul grande schermo. E questo è uno spettacolo molto importante perché è uno spettacolo che... Anche perché è uno spettacolo realizzato in occasione della giornata della memoria 2023. Sì, questo è uno spettacolo che torna quest'anno a teatro dopo il successo dell'anno scorso, lo abbiamo riproposto nella settimana della memoria proprio perché è tratto da un romanzo che è uno dei più famosi, il romanzo di Ullman che viene fatto leggere a scuola spesso tra i libri che vengono scelti per insegnare un po' ai bambini che cos'era quel periodo lì. Si tratta di una bellissima amicizia tra un ragazzo nazista, diciamo un ragazzo tedesco che poi diventa nazista e un ragazzo ebreo che... Insomma, si ritrovano a scuola e attraverso delle passioni in comune, come avviene spesso all'interno dell'ambito scolastico, poi nasce questa amicizia che viene un po' spezzata dalle condizioni dell'epoca. Insomma, chi ha letto il libro sa di che cosa sto parlando. Noi abbiamo cercato di raccontare questa storia che non è molto semplice da riportare a teatro perché essendo un romanzo ha una narratività molto da romanzo, quindi da racconto. C'è una voce narrante nello spettacolo? Non c'è una voce narrante. Quindi qui anche si lega la difficoltà. Avviene un qualcosa che è molto simile a quello che sta avvenendo in questo momento qui, cioè un'intervista al protagonista, che poi è quello che parla in prima persona nel libro, a distanza di anni, quindi a distanza dalla Seconda Guerra Mondiale, quando lui non ha più notizie di questo suo amico, che in realtà si è diviso da lui non proprio in toni gradevoli, perché questo ragazzo, a un certo punto, il personaggio che interpreto io, Corradin, prende la strada del nazismo, quindi avviene questa grande spaccatura tra loro due. Lui naturalmente di famiglia ebrea viene mandato in America, quindi fugge dalla Germania, a differenza della sua famiglia che rimane in Germania e farà la fine che immaginate, mentre il mio personaggio, Corradin, ammagliato un po' dalla figura di Hitler, come molti all'epoca, decide di intraprendere la strada del nazismo, ma il finale ha sorpresa, anche qua. E quindi non raccontiamo niente, bisogna andare a teatro dal 24 al 29 gennaio con l'amico ritrovato, tratto appunto dal libro. Ma non solo, c'è un altro spettacolo che presentate a teatro, giusto? Storia di una bella e una bestia. Poi vedo le date, giovedì 2, venerdì 3, sabato 4 febbraio 2023 alle ore 21 e domenica 5 febbraio alle ore 18. Al teatro dei documenti. Qui insomma non è una maratona come quell'altro, qua sono i 100 metri più brevi. Qual è la differenza, a parte ovviamente, immagino, nella storia? Beh, anche questo è un ritorno. Nel senso, questa è una tournée che nasce almeno un anno e mezzo fa. È un testo che ho scritto io durante la pandemia. È una mia versione della bella e la bestia che si rifà molto alla favola, diciamo, originale. Come ti è avvenuto? Cioè tu eri in quei giorni chiuso a casa come tutti quanti, dove l'arte si è fermata, perché poi ci sono stati anche tantissimi problemi legati al vostro mondo, ovviamente che abbiamo raccontato purtroppo. Tu ti sei messo lì e hai detto da attore voglio scrivere io una cosa. Cioè stai vedendo la bella e la bestia e quindi ti è venuto in mente di rifare? Ma in realtà è stata un'opportunità, nel senso che dovevamo portare uno spettacolo in un luogo molto particolare che si trova a Roma, che è la Cappella Orsini, che si trova a Campo dei Fiori ed è un teatro molto particolare, sembra all'interno di un castello. E mi è stato chiesto quale spettacolo potremmo portare in questo spazio che tra l'altro non è molto grande. Quindi complice anche la pandemia, non potevamo andare in scena con troppi attori. ho pensato di riproporre la bella e la bestia perché nella versione originale in realtà non ci sono tutti questi personaggi come c'è nella Disney per esempio e dare una mia versione. Quindi la location si prestava molto bene, è stata una sfida per me, è la mia favola preferita, quindi ci ho messo tutta la passione. Io sono molto appassionato di favole, della Disney in generale, è un po' la mia infanzia, è questa. E quindi per me è stata una sfida perché interpreto poi il personaggio della bestia. Ho voluto inserirci molta poesia, ho preso tre poesie di Prevert che fanno da Tredugnona tutta la messa in scena e siamo tre attori che interpretano alla fine cinque personaggi perché uno è un narratore che poi si trasforma in padre e che poi si trasforma in voce narrante, no, voce narrante, voce off di un personaggio che ho inventato io che è questo pianoforte che fa un po' da contraltare alla bella e alla bestia. È uno spettacolo che dura un'ora, quindi non è molto lungo come non è molto lunga la storia che la Disney ha poi ampliato. È il primo che scrivi? No, non è il primo, ho già scritto altri spettacoli, però è il primo che scrivo andando in scena io. Ok. Andando in scena io. Quindi, insomma, è stato molto emozionante ma abbiamo avuto una buona risposta quando l'avete portato in scena per la prima volta? Perché mi hai detto che appunto ci hai detto che l'hai scritto durante la pandemia. Sì, l'abbiamo portato in scena proprio alla riapertura dei teatri. Quindi avevamo l'opportunità di andare in scena a diversi weekend in questo spazio molto particolare. Abbiamo avuto una buona risposta di pubblico e l'abbiamo riportato poi a Brindisi Montagna che è in Basilicata dove c'è questo castello molto suggestivo e abbiamo avuto un grande successo anche lì. Gente che prenotava dalla Puglia, dalla Basilicata. Bellissimo. Comunque è un titolo che richiama la curiosità. In una location particolare e anche adesso abbiamo scelto il teatro dei documenti a Roma che è un teatro molto particolare. Anche lì sembra di stare quasi dentro un palazzo. Cerchiamo tutti questi luoghi. L'abbiamo fatto a Zaccarolo nel Palazzo Rospigliosi a Settembre. Quindi, insomma, è anche... La curiosità di chi vuole vedere una versione che è una versione molto vicina a quella originale. Quindi non ci sono canzoni, è una versione in prosa, quindi è totalmente in prosa. Però... C'è tanta musica e c'è tanta poesia che è poi alla base di questo racconto. Poi l'hai scritto tu, quindi c'è anche tanto interesse in questo, no? Ti dà fastidio essere etichettato? Perché magari fai un sacco di cose bellissime, ricercatissime, difficilissime anche da fare, perché scrivi, dirigi, reciti. Ad esempio, qui sarà in scena con la storia di una bella e di una bestia dal 2 al 5 febbraio, ma con l'altro spettacolo che abbiamo visto prima e che ne abbiamo parlato prima, termine, eccolo qua, l'amico ritrovato, il 29 gennaio. Quindi, c'è, hai pochissimi giorni di stacco tra una cosa e l'altra, cambiare totalmente spettacolo, eppure magari vai in giro, vai in pizzeria, e sei, come ti ho detto io, quello che era fidanzato con la figlia piccola di De Sica nel cinema panettone del 2009. Te lo dico, io ho cominciato con questa serie che ha avuto un buon successo su Rai 1, che era la ladra, io facevo il figlio della Pivetti, quindi la gente quando mi riconosceva per stata diceva quello è il figlio della ladra, quindi sono passato dal figlio della ladra al ragazzo diciamo, sì, il ragazzo della fidanzata di De Sica, tu sei il ragazzo della fidanzata di De Sica, e poi c'è stata la, diciamo, la consacrazione di un posto al sole, esatto, ho fatto quattro stagioni di un posto al sole. Tu a Napoli non puoi girare? Beh, forse adesso sì, perché è un pochino che è un momento dove a Napoli tu non potevi girare, come Totti a Roma, non so se segui il calcio. Sì, come no, come no, sì, 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 beh, a Napoli un posto al sole è un qualcosa di molto familiare, quindi loro ti fermano non perché sei l'attore, ma perché proprio sei il personaggio, quindi ti fermano come se parlassero proprio col personaggio, dico, mi raccomando, hai ci visto ieri con tuo padre, salutamelo tuo padre, oppure mi dicono, arrivi alla rimazzata, capito, ti ho visto con tua cugina, quando è bella tua cugina, capito? Mi spieghi, ma non è mia, cos'è il personaggio? Si chiamano per nome, però è molto bello, veramente molto, molto gratificante, perché comunque, sai, è questa un po', la magia del teatro è il fatto che tu abbia il pubblico lì e che quindi vivi con loro quell'esperienza e assorbi da loro l'energia, cerchi di trasferirla, l'attore non è, lo spettatore in realtà non è mai un elemento passivo, la magia della televisione e del cinema è il fatto che tu possa arrivare a tante persone, lo sai dopo, non hai la reazione istantanea, però naturalmente c'è sempre la soddisfazione di chi ti riconosce e ti fa i complimenti, a me il complimento più bello che mi hanno fatto, devo dire, diverse volte che mi fermano e mi dicono se vedi che tu vieni dal teatro, che è una cosa che a volte si sente anche nell'impostazione vocale, grazie, la usano a volte anche come una critica, perché a volte quando vedi un attore che recita in televisione, magari qualcuno che esagera un pochino, si dice ecco, questo è molto teatrale in quello che fa o ha una voce molto teatrale, che è una cosa che in realtà a volte uno utilizza, gli spettatori a volte utilizzano come critica, ma a me mi ha sempre fatto piacere. Pur vero che la grande differenza è l'improvvisazione, ovviamente, quindi ad un attore di teatro tu puoi chiedere qualsiasi cosa, come noi lo ripetiamo sempre anche nel nostro ambito, chi fa la televisione viene dalla radio, facciamo un collegamento Skype, salta il collegamento con l'ospite, noi ci dobbiamo comunque reinventare, dobbiamo trovare comunque degli argomenti di cui parlare jolly. Esatto, cioè qualora io adesso Alessio ti chiedessi di alzarti in piedi, guardare in camera e fare un monologo un minuto e mezzo sei in grado di farlo. Anche un attore che fa solamente televisione o solamente cinema è in grado di farlo, però hai una marcia in più. Ma perché è così? È così? Diciamo che è un percorso, una scuola che ti insegna a fare un po' tutto. Quando hai iniziato col teatro? Scusa che ti interrompo. Io ho iniziato appena finito il liceo, quindi a 19 anni. Avevo avuto delle esperienze, la mia passione per la recitazione nasce durante le scuole medie, grazie a una mia professoressa di italiano che era molto appassionata di teatro e quindi ci faceva fare teatro. Io vinsi un premio come miglior attore mettendo in scena Natale in casa Cupiello a 13 anni al teatro Quirino perché partecipiamo a questo concorso organizzato da Silvio D'Amico che è l'Accademia Nazionale Drammatica Dialetti a Confronto si chiamava e noi eravamo una classe di una scuola di Roma che portava Natale in casa Cupiello e io facevo Edoardo a 13 anni un premio che tra l'altro non l'ho mai ritirato cioè mi hanno dato il piatto ma non l'hanno mai il premio era uno stagio alla Silvio D'Amico che è l'Accademia ma devi essere maggiorenne per partecipare E non eri maggiorenne Io avevo 13 anni E non si poteva rimandare di qualche anno Sì mi dissero quando poi finirai le scuole vieni ma a me non mi è passato per la testa insomma di andare lì a bussare dopo 5 anni Vi ricordate di me quando avevo il piatto Il piatto è questo però è stata una grande soddisfazione e poi mi ha fatto nascere è stato un po' il click che abbiamo tutti C'è stato un momento con cui hai detto bella passione mi diverto mi piace la gente dice che sono bravo ma deve diventare il mio lavoro Sì perché ho lavorato praticamente da subito io appena ho cominciato io ho finito il liceo mi sono iscritto all'università per fare economia durante quell'anno sono successe delle cose il destino poi ci mette del suo che mi hanno riavvicinato alla recitazione e praticamente io dopo qualche mese che avevo iniziato a studiare recitazione sono stato preso per fare questa serie sul Rai 1 con la Pivetti e da lì è diventato un lavoro quindi ho dovuto accantonare l'università iscrivermi a un'accademia per recitare perché ho detto questa è la cosa per cui mi sento più portato è la cosa che mi fa sentire vivo è la mia passione è una cosa che mi fa sentire al di sopra della media che è un po' quello che mi è sempre mancato a me perché a scuola bene o male le materie ero sempre un po' nella media nello sport essendo anche un grande appassionato di calcio purtroppo il signore non mi ha dato i mezzi per arrivare chissà dove ma mi ha dato forse qualcosina per dire qualcosa in quest'altro ambito e lo faccio con grande amore con grande passione posso fare una critica magari a un tuo amico Castellitto figlio figlio bravissimo ha interpretato Francesco Totti nella serie televisiva ti guardo di profilo biondino romano doc come lui così mi tocchi proprio sul sentimento però posso dire che anche la voce si chiudi gli occhi un pochino perciò allungami la lopera perciò ragazzi è Totti per me è un idolo lui io mi sono avvicinato al calcio per Totti nonostante mio padre fosse avvelenato di Roma e di calcio io da piccolo l'ho rifiutato il calcio quando ti impongono una cosa e tu la rifiuti a sei anni mi hanno iscritto a una scuola calcio io andavo c'erano ancora i campi di terra io facevo i castelli come se stessi in spiaggia quindi figura da me del pallone poi c'è stato due o tre anni dopo qualcosa che mi è scattato pure lì una serie di cose ho tagliato i capelli come lui sai quando ho cominciato a seguirlo e mi sono sono diventato peggio di mio padre infatti è tutto ora io sono malato di Roma comunque non è una cosa brutta possiamo dirlo assolutamente no assolutamente non è una cosa brutta ognuno ha le sue tra l'altro dicono che adesso si è un giocatore molto bravo con la maglia numero 21 argentino dicono che sia molto bravo non lo so dicono così mi sembra così dicono che sia molto bravo non ne parliamo troppo perché pure è molto fragile ecco potrebbe far male solo a parlarne non ne parliamo troppo allora parliamo un attimo di cine panettoni perché prima di te c'era l'avvocato parliamo di cose serie con l'avvocato non che queste non siano serie figurati e l'avvocato ha detto io rimango un attimo non vi guardo perché io sono un grande appassionato di cine panettoni questa è la potenza del cine panettone cioè è universale è una cosa che è universale secondo me per quanto riguarda il genere maschile dici è vero le donne però è difficile che piacere il cine panettono dipende dipende secondo me diciamo dalla famiglia da quanto la famiglia è stata anche ha seguito i cine panettoni ho conosciuto tanti ragazzi che sono molto appassionate dei film perché i genitori soprattutto il padre guardava il cine panettono guardavano i cine panettoni però ecco è un qualcosa che purtroppo appartiene a un'Italia che sta un po' scomparendo nel senso che non avevamo queste tradizioni il film di Natale raccontava un po' era un po' una sorta di primo bilancio dell'anno dove tu vedevi le mode le canzoni del momento i luoghi dove l'italiano medio voleva andare in vacanza i sogni anche degli italiani e tutto questo condensato da dei comici molto molto dotati come come Cristian De Sica Massimo Boldi Gerry Galà gente che magari se ad alcuni adesso li nomini dicono vabbè ma questa roba adesso si usa dire trash ma in realtà hanno fatto la storia della commedia italiana sei rimasto in contatto con qualcuno di quel cast stellare del 2011 perché c'era ovviamente De Sica c'era Sabrina Ferilli sì purtroppo essendo anche lì molto piccolo perché avevo 22 anni tendi un pochino ad avere grande rispetto delle persone come ho sempre fatto e quindi sai anche l'avvicinamento privato però loro sono stati molto carini con me in realtà c'è un attore con cui sono stato con cui sono rimasto molto in contatto e che vedo praticamente un paio di volte a settimana Dario Bandier no è Nicolò Senni che è un attore che ha lavorato tanto lavora tuttora tanto e faceva praticamente l'altro l'altro cognato io stavo in stanza tra l'altro le sai che vedevo proprio domenica quindi l'altro ieri un film di Nicolò con Sabrina Ferilli che si chiama adesso lui ne ha fatti veramente c'è la ragazza che lavora in un call center con la Ferilli che dirige il call center come no ho capito benissimo quel film è anche un po' drammatico se vogliamo molto fa pensare si parla di una piega sociale sfugge il titolo ma è molto bello e tra l'altro quel film è il 2008-2009 e lo guardavo con la mia ragazza ho detto ma lui ma con quegli anni ma quanto ha lavorato perché abbiamo intervistato anche Wolfango De Biasi e con lui ha fatto Loris il cugino di Nicolò Svaporiti in Come tu mi vuoi lui lavora tanto tra l'altro adesso è anche in una serie internazionale con l'attore di Tutta la vita davanti si chiama quel film Sì Tutta la vita davanti adesso sta su una serie internazionale che è con il protagonista della Casa di Carta l'attore che faceva il professore che fanno dei pirati ambientato nel Settecento a largo dei mari spagnoli quindi insomma è un attore che insomma ha sempre lavorato molto Alessio gioca con me con la Nazionale Atturi per questo dai un giorno vi veniamo a vedere un palito meraviglioso Alessio grazie mille di essere stato qui con noi veramente e mi raccomando vi ricordiamo di andare a vedere Alessio nei suoi spettacoli vero l'amico ritrovato al teatro Cometa Off dal 24 al 25 gennaio 29 29 leggiamo poco da qua e poi storia di una bella di una bella anche tu fai fatica dal 2 al 5 febbraio al teatro dei documenti ce l'abbiamo fatto ce l'abbiamo fatta grazie Alessio per essere stato qui con noi grazie a voi un grande piacere noi diamo la pubblicità abbiamo un tastativo torniamo subito dopo con il fantastico Fabio Camillacci rimanete lì mi raccomando attravo a Grazie a tutti.